salve a tutti siamo con Antonio Cammarano che è di Centola Centola Paese e che ha circa 16-15 capi mucche e bovine, vacche fattrici e lavora sulla linea fattrici carne, vitelli diciamo, ecco quindi sulla linea carne fa anche un po' di formaggio poi ci racconta in parte lavora anche con il padre che è ancora diciamo una persona presente anche se ha qualche anno ecco Antonio raccontaci un po' questo come sei arrivato a essere adesso tu hai 44 anni e quindi sei sempre comunque un bel giovane grazie anche perché in Italia insomma almeno fino a 50 55 anni uno è sempre giovane ancora e quindi siamo è la dieta mediterranea è la famosa dieta mediterranea esatto diciamo così oppure è perché ai giovani non gli viene dato spazio sufficiente e quindi poi gli si tiene sempre lì in attesa che venga il loro momento che poi non viene mai poi dopo uno passa dall'essere giovane improvvisamente diventa tanziano senza neanche più tanta tanto 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 distacco temporale allora ecco raccontaci un po' come tu sei diventato un allevatore e raccontaci un po' le cose che fai prego buonasera sono Antonio e noi niente io la passione l'ho presa diciamo già un po' di anni avevo sui 18 anni che abbiamo fatto la prima mucca con mio padre e poi man mano e abbiamo cresciuto un'altra un'altra sopra un'altra e abbiamo arrivato a 16 capi e e niente ringrazio a mio padre perché lui ma ma tra trapanato come si deve dire trapanato questa questa situazione questa passione diciamo questa passione e e così andiamo avanti io i 16 capi stiamo cercando più di andare su un settore carne diciamo e e che le mucche che ho sono meticce diciamo sono trapezzate rosse marchigiane sono un po' sono pombiste e faccio i e scusate ma sono un po' emozionato no ma non ti preoccupare tu tu scusa tu sai tu fai questi vitelli no che poi tu allevi fino a fino all'ingra fai anche l'ingrasso oppure si faccio l'ingrasso si faccio l'ingrasso oppure a 7-8 mesi li do a macellaio Valiante Silvano che l'altra sera l'hai intervistato esatto e qualche ed uno lo mette all'ingrasso e sempre lui se lo prende eh perché il tramite Silvano lui mi ha dato consigli mi ha dato pure secondo lui che razza mette per fare un po' di carne e e ho messo su un limusine dico la verità quindi tu c'hai ho fatto ho fatto sia delle provette oppure delle volte il toro l'ho cresciuto l'ho tenuto due anni e poi l'ho tolto diciamo eh quindi diciamo tu stai cercando di utilizzare come come diciamo seme maschile il limusine si perché perché nascono le cosiddiche le mucche secondo me non soffrono perché limusine secondo me nascono piccole e poi un attimo non diciamo un attimo però man mano eh svezze prima sì cioè nel senso che sono a rapido accrescimento da un punto di vista del peso però nascono nascono in maniera tale che non soffre la mamma non soffre la mucca sì quando fa il parto diciamo perché quello è un problema ecco senti eh ti volevo chiedere dunque tu c'hai eh sti sedici capi eh eh come sei organizzato cioè quanta terra c'hai racconta un po' come sei organizzato rispetto alla tua proprietà ma io alla Fida Pascolo allora io della terra mia sono sui 6-7 ettari poi c'ho la Fida Pascolo affittata dal comune di Centola sì e poi c'ho anche dell'altra gente quanti ettari sono questi diciamo ma sono una quarantina più o meno diciamo e e poi c'ho quello della zona degli amici che mi hanno dato un Pascolo e che puoi utilizzare diciamo sì per le mucche tu gli regali qualche casciocavallo o qualcosa sì sì giustamente una mano e le varie altre no è chiaro come fai a fare è chiaro senti ecco allora quindi tu c'hai 40 ettari di Fida circa una quarantina di ettari di Fida Pascolo 7 ettari tuoi però su questi ettari tu c'hai anche un po' di oliveto un po' di vigneto no? sì 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 faccio un po' di olio non sono tutti mascolabili non sono tutti mascolabili diciamo sì 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 ecco ma come sei organizzato c'è una stalla dove possono stare d'inverno questi animali io allora fino adesso devo la verità quest'anno non l'ho chiuso ancora perché il tempo mantiene per esempio già l'anno scorso a metà novembre l'ho chiuso no c'è una stalla che ci vanno giusti giusti diciamo 20 capo io ce ne so 16 allora sì chiaro e dal punto di vista della come dire della riproduzione di questi animali tu cerchi di fare anche un po' di programmazione nel senso che ti fai nascere che ne so fai in modo che nascano che ne so in primavera piuttosto che in altre stagioni primavera c'è il vantaggio che l'erba è più è migliore è migliore esatto ecco per dire non lo so dimmi tu come fai tu sì sì no vabbè io delle volte te l'ho detto c'è il toro lo cazzo vuol dire a maggio aprile maggio più o meno fai il calcolo poi partoriscono tra gennaio febbraio così poi quando sono chiusi partoriscono e poi li cazzo a marzo a marzo perché poi tendenzialmente tu li lasci sempre fuori stanno sempre sì 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 dopo stanno stanno fuori stanno liberi e tu sul tuo terreno e anche nella nella fida pascolo c'è c'è l'acqua no sì sì l'acqua c'è l'acqua c'è giustamente se capita come questo anno che è stato un po' un po' brutto con l'acqua era dobbiamo portare noi capito con la cisterna sul trattore gliela portiamo ho capito ecco ora fai anche tu fai anche un po' di formaggio no c'è un po' qualcosa il latte poco perché appunto tu c'hai la linea carne quindi lasci il livello che possa mangiare il più possibile il latte della madre però un po' di formaggio lo fai sì per formaggio tra me e mio padre cerchiamo di quel mese mese e mezzo di mungere perché giustamente poi la mattina alle 5 ti ci vegli presto poi ti dico la verità io lavoro pure un settore a pallinuro un settore nautico certo e poi la sera alle 6 devi salire per aiutare a mungere di nuovo e loro cerchiamo di fare più o meno facciamo poi non è che siamo grandi esperti diciamo la verità stiamo cercando di migliorare cercando di migliorare certo ecco senti che ti volevo dire dunque perché appunto tu dicevi che che fai anche un'altra attività soprattutto del periodo della stagione se quei sei mesi tu lavori nella nautica sei un diciamo un meccanico dei motori nautici si motori nautici e quindi diciamo tu poi devi fare i salti immortali perché appunto per cercare d'estate quantomeno di stare da una parte al lavoro dall'altra in azienda ecco ti volevo chiedere su questa su questi vostri ettari personali diciamo volevo chiedere se tu fai anche un po' di coltivazione di foraggio o di qualche cereale tipo l'avena queste cose qua no no noi questo qua non lo facciamo io facendo il fieno lo compro rotobal di erba metica oppure gli animali ci compro la farina con il mais quello macinato diciamo le favucce se roba qua grande grandurco il macinato gli do questo ho capito ecco ora da un punto di vista del futuro no ecco che cosa pensi di fare cioè appunto tu hai detto io voglio lavorare su questa linea della carne ecco però io volevo chiederti appunto mettiamo da qui a cinque anni no mettiamo che tu scegli di privilegiare questa attività di allevamento rispetto anche ad altre attività come dicevamo il tuo lavoro come meccanico per carità poi magari lo puoi sempre fare però ecco volevo chiederti cioè questa azienda come vuoi che diventi diciamo da qui a cinque anni no cioè l'azienda vorrei cercare di di mandarla avanti abbastanza abbastanza bene che frutta di più diciamo eh così mi dedico più all'azienda e giustamente non faccio un corri corri se devo fare il meccanico devo fare l'azienda anche perché c'ho 43 anni e poi arriva a 50 anni fai sempre se il corri corri non arrivi più certo scusa ma la mia passione adesso la mia passione scusa me non ho capito no dicevo adesso la mia passione te lo dico la verità è è proprio il quadro che c'ho è l'azienda vorrei vorrei far fruttare l'azienda perché a me piacciono gli animali devo dire quello che è chiaro è una passione che mi ha mandato mio padre la voglio portare avanti anche per dargli una soddisfazione a lui senti quindi tu se dovessi scegliere se potessi scegliere tu faresti l'azienda più che fa il meccanico sì però ovviamente bisogna che risolvi il problema del reddito perché non è che l'azienda no perché si sa una avendo una famiglia ci pensa due o tre volte delle volte e ti frena un poco ecco ma questo vorrebbe dire anche però che rispetto alla linea carne che tu vuoi fare dovresti uno forse anche selezionare di più gli animali no perché io penso alle fattrici no perché tu puoi intervenire col toro però per esempio non lo so ecco avere un po' più di animali di razza si avendo più poco animali di razza anche da latte come no questo qua si vorrebbe poi potresti anche avere qualche animale da latte ad esempio tu dicevi parlavi della pezzata rossa la pezzata rossa il latte lo produce si si è una grandissima razza fa anche del grandissimo latte con con i grassi giusti per poter fare i formaggi buoni non lo so ecco quindi dovresti anche lavorare in quella direzione da una parte poi non lo so ecco perché diciamo ecco ma tu l'ingrasso poi come lo fai cioè il vitello rimane rimane sostanzialmente dentro un recinto cioè non va o va sempre a pascolare in giro no no io il vitello per esempio a 7-8 mesi lo ritiro dal recinto e lo metto in installa in grasso ah lo metti proprio in installa ok si si ecco no perché appunto Silvano per esempio è uno di quelli che sostiene la tesi che l'animale deve avere questo grasso che avvolge avvolge i muscoli no si Silvano è il tipo che l'animale lo vuole molto molto grasso perché secondo lui secondo lui ebbè lui gestamente lui mi impara e dice che la carne è più è più tenera è più tenera più tenera più saporita è migliore e poi si può fare anche la frollatura migliore è logico si si ho capito quindi tu sei intenzionato ad andare avanti su questo discorso della linea della linea ma pensi di aumentare anche il numero degli animali delle fattrici da questo punto di vista no massimo vorrei arrivare a 20 ma non di più perché perciò è meglio qualificare 20 mucche pure come hai detto tu Alessandro e non fare 100 e arriva sempre alla stessa somma è tutto un miscuglio strano invece fare 100 fatte bene ecco quindi questo mi sembra un bel programma nel senso che è impegnativo io questo programma qua vorrei farvi dico la verità è poco accanto al netto ancora devo lavorare come meccanico però dopo mi voglio ritirare voglio dare una soddisfazione a mio padre e fagli vedere che cosa so fare voglio provare anche a fare del formaggio bene quindi hai anche questa motivazione diciamo di voler dimostrare diciamo a tuo padre che sei si dice un bravo figliolo un bravo figlio bravissimo bravissimo che che è un po' la la nostra ossessione perché io anch'io avevo un padre a cui volevo dimostrare di essere un bravo figlio mio figlio ha l'ossessione di dimostrare a me perché lui ha un bravissimo figlio io glielo dico sempre c'è bisogno di dimostrare niente io lo so che tu sei bravo però mi rendo conto che comunque è una bella molla questa no ma così ma poi c'è una figlia di 14 anni pure ti dico la verità lei è appassionata allora perciò pure voglio fare anche una cosa tirarla dentro e fargli fare bene capito mi fa piacere anche perché si vede che appunto tu sei una nuova generazione aperta all'idea che una donna può essere può avere un ruolo no ti dico la verità lei è appassionata se deve andare a stalla a pulire la stalla viene a pulire anche se deve mungere c'è 14 anni che mungere non è questo il problema ho capito perfetto ottimo vedi c'hai già anche una prossima generazione pronta per per darti una mano ecco quindi questo è importante va bene senti Antonio io ti ringrazio e poi appunto spero che come ti dicevo prima che facessimo intervista ci saranno queste giornate che faremo nei prossimi tra febbraio e marzo aperte a tutti gli allevatori che sono ci sarò ci sarò uno un incontro con Gianni Ruggero della regione Campania e poi abbiamo queste quattro giornate di formazione sul latte e la caseificazione quindi poi dopo metterò il programma manderò il programma a te come a tutti gli altri ci farebbe molto piacere che diciamo chi può partecipare partecipi ecco perché sono tutte cose gratuite quindi sono tutte cose che abbiamo degli esperti in gamba che insomma possono dare un contributo per soprattutto sul latte e la caseificazione in termini anche un po' di formazione ecco no questa è una cosa molto interessante ma ci sarò non mancherò al cento per cento benissimo grazie ok grazie a lei la ringrazio Alessandro scusa l'emozione grazie a lei grazie a lei grazie a lei